Senti Marco, che cazzo stai dicendo? Perché ti fissi su questa parola scopata? Perché tu adesso vuoi andare a farti una scopata e poi andartene a non chiamare il più. Oh no, sto gridando. E come stupi i miei panni? Come tanto a crederti? Tu arrivi qua, tiri fuori questa cosa della scopata, poi ti chiedo spiegazioni e cominci a far fuggliare. No, 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 non lo so. Stai con qualcuno, hai paura che ti chiami? Che cosa pensavi? Che stessi qui ad aspettarti? Non so. Dopo cinque anni Marco è abbastanza ovvio che fra noi sia finita. E buongiorno, vorrei fare la cessione del badge. E lei è mia sorella. Salve. Salve. Lei ha 25 anni, il suo badge vale ancora 23 anni. Sì. Lei invece ha 35 anni, il suo badge vale ancora solo 13 anni. Esatto, sì. E vuole cederlo a sua sorella. E lei è d'accordo? Sì. Microplastiche, basta. Danneggiano l'ambiente e inquinano il mare. Ne più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà è quella che si vede. E basta lanciare questi campi in pianne dove l'esercito ha lanciato dei volantini per dirmi di uscire da casa mia. E poi, se per caso non aveste colto l'allusione, lo stesso esercito mi ha bombardato con cannoni talmente vicini che abbiamo potuto sentire i motori, i romboli e fischiari. Qualcosa è? Perché qualcos'altro l'ha preceduta.